C'è stato Napoli-Benevento, ci colpisce molto la presenza del Benevento in pianta stabile nella città di Napoli con la struttura del Caravaggio e scuole calcio che finalmente sono riferimento per quei ragazzini che sognano di diventare calciatori. Iniziativa che parte da Benevento per cui muoge le Napoli? Napoli e Benevento sono due città molto legate, fanno parte della stessa regione, c'è una rivalità sportiva in questo caso, ieri abbiamo vinto con un sonoro 6-0 ma sono due città che sono molto legate da tante cose, noi siamo molto contenti che il Benevento sia venuto in Serie A quindi auguriamo una buona fortuna che possa finalmente cominciare presto a fare punti perché quante più squadre del sud ci sono più siamo contenti e in particolare della regione campanica. Grazie